Gusto di Frontiera rappresenta un po' il frutto di Venezia Giulia, ovvero l'incontro di diversità, la valorizzazione delle diversità, che è la bellezza di questo territorio ed è la ricchezza di questo territorio. Oltretutto entra in un triennio d'oro, quello che condurrà a Gorizia, a Gorizia 2025, e Gusto di Frontiera rappresenta proprio quello, l'incontro di diversità e delle specificità. Oltretutto devo dire che invito le persone a venire a Gusto di Frontiera perché mi hanno fatto una domanda. Cosa vuole assaggiare Gusto di Frontiera? E' la domanda sbagliata per venire. In realtà Gusto di Frontiera è per scoprire. Uno trova quello che non si aspetta, incontra quello che non pensa di incontrare. Per questo Gusto di Frontiera è una situazione unica che porta il mondo a Gorizia e da Gorizia parte il mondo. Oggi ci siamo trovati tutti assieme a Gorizia a inaugurare la diciottesima edizione di Gusto di Frontiera. Una grande edizione, un'edizione che vedrà partecipare oltre 30 paesi provenienti da tutto il mondo e ci darà la possibilità di mettere in vetrina l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Vi aspettiamo tutti quanti a Gorizia in questi giorni. Una grande e straordinaria opportunità, una kermess, la più grande enogastronomica del nord-est, ma un luogo di aggregazione, punto di riferimento non soltanto per tanti italiani ma per tanti stranieri. Portare l'endogastronomia in tavola significa portare la cultura in tavola. E Gorizia, insieme a Nuova Gorizia, capitale europea della cultura del 2025, non poteva naturalmente che sottolineare anche l'aspetto culturale di questa grande opportunità che, ripeto, deve essere assolutamente una festa, una grande festa, la più grande festa del nord-est. Grazie. 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 Grazie.